Presentato alla BIT di Milano il corso di alta formazione, management e marketing delle imprese turistiche, un evento formativo che segue la prima edizione che si è svolta lo scorso marzo, nato da un protocollo d'intesa siglato da Confesercenti Puglia e Università di Bari il 29 marzo 2022 per rispondere ai fabbisogni del territorio. Il corso punta alla formazione di figure professionali che raggiungano conoscenze adeguate alle trasformazioni socio-economiche in atto. Deriva questa sinergia fondamentalmente da un protocollo d'intesa che l'Università di Bari ha stipulato con Confesercenti Puglia e ha portato in primis all'attivazione di tirocini curriculari per gli studenti del mio corso di laurea, in management dei sistemi turistici e culturali e in secondo luogo al primo corso di formazione riservato esclusivamente agli imprenditori che è una novità perché generalmente i corso di formazione sono riservati ai dipendenti. Questa volta l'abbiamo fatto agli imprenditori, abbiamo fatto la prima edizione, adesso presentiamo la seconda che si svolgerà credo tra marzo e aprile. La Puglia è una regione capofila per quanto riguarda non solo i risultati consolidati nella filiera del turismo che già da anni porta avanti ma è anche un'esperienza pilota, è anche una regione che del turismo ha fatto il proprio core business, è una regione che soprattutto nei confronti di tutto il Mezzogiorno d'Italia ha tanto da insegnare. Ora oggi parliamo di alta formazione applicata al turismo, ecco questo è il passo in avanti, è l'incontro tra il mondo scientifico, tra la cultura, tra quel passo in avanti che la cultura deve far fare alla cultura di impresa perché spesso ci si improvvisa imprenditori, ancora di più imprenditori nel mondo del turismo e la Puglia ci insegna che questo non è più possibile, ci insegna che occorre approcciarsi al mondo dell'impresa turistica con la massima professionalità, ne va non solo del buon nome della Puglia ma va del buon nome della promozione del prodotto Italia che è quello che sta più a cuore a noi.